Ha riscosso un grande successo il convegno Zefiro organizzato dalla società Aeroporto di Grapannori S.P.A. svoltosi stamattina all'auditorium. A tutti gli effetti il primo tassello di come il dimostratore tecnologico di innovazione nel campo delle tecnologie energetiche da fonti rinnovabili nel settore aerospaziale dell'aeronautica leggera può rappresentare per innovazione e la ricerca sul territorio. È una sala piena soprattutto è una sala di alta qualità ci sono molti docenti universitari molti ricercatori del CNR quindi diciamo noi stiamo presentando tutta una serie di progetti che sono progetti già in corso d'opera alcuni sono già nella fase oltre già per la industrializzazione e quindi proprio il compito nostro è quello di creare le condizioni per facilitare questi processi di industrializzazione per creare appunto nuova occupazione nuova imprenditoria e soprattutto nuova ricchezza sociale che è un contributo importante in questo momento in una situazione di grave crisi economica e occupazionale che stiamo attraversando. I risultati io spero che si possono vedere già nei prossimi mesi perché un processo di industrializzazione su prodotti ormai pronti per essere industrializzati ci sono e quindi adesso si tratta di trovare si sta lavorando per trovare finanziamenti ecco io credo che è vero in una situazione di crisi come questa profonda c'è bisogno di innovazione ma l'innovazione non basta invocarla bisogna creare un sistema efficace che possa appunto aiutare e facilitare questi percorsi cioè partire noi il compito proprio del zeffilo come dimostratore tecnologico e prendere un progetto nella sua fase prototipale dargli l'opportunità di sperimentarlo di testarlo nell'ambito dell'aeroporto di Tassignano negli spazi apposta adibiti a questo come dimostrazione tecnologica e poi dopo capire quali possono essere le applicazioni e le potenzialità di industrializzazione di questi dei nuovi prodotti che sono il frutto della ricerca di questi anni. Assessore in un mercato che risente molto della crisi occupazionale l'innovazione può essere forse la marcia in più per questa ripresa economica? Assolutamente sì, noi se vogliamo sostenere la competizione internazionale dobbiamo puntare molto sulla eccellenza e sulla qualità cioè l'eccellenza sostenendo quelli che sono i settori forti della nostra economia e che fanno sì che la Toscana sia la regione che già oggi ha recuperato i livelli di esport del 2008 e del 2007 proprio perché abbiamo la moda, abbiamo il calzaturiero, abbiamo tutta una serie di settori, la meccanica fine che tirano molto e al tempo stesso dobbiamo investire sulla qualità, favorire le nostre imprese perché siano in grado di reggere la competizione internazionale sia per garantire l'eccellenza sia per sostenere la qualità l'innovazione è fondamentale, senza innovazione noi rischiamo di vedere le nostre situazioni di punta perdere spazio e soprattutto non conquistare nuovi mercati, da questo punto di vista l'iniziativa che qui si sta portando avanti è di grandissimo rilievo. Ecco appunto questa iniziativa di Capanno gli va a colpire un mercato che forse è ancora inespresso in parte specialmente in Italia. Sì, noi abbiamo grandi eccellenze nel campo della meccanica, della motoristica eccetera, per quanto riguarda il tempo, il caso diciamo della avionica anche qui abbiamo situazione di punta di grandissimo rilievo, pensiamo a tutto il gruppo Finmeccania che è uno degli elementi di grande rilievo, ecco forse nei livelli più legati al di porto, ai piccoli mezzi abbiamo da conquistare spazio e questa iniziativa può essere importante.